Buongiorno a tutti, chiamo Margherita Pettio, sono una biologa nutrizionista ma anche un'operatrice sanitaria MCB. Da un po' di tempo sentiamo parlare di epigenetica, questa parola forse non nota a tantissimi ma che mi piacerebbe un attimo spiegare per meglio comprendere ciò che può portare beneficio alle persone che si affidano diciamo a un nutrizionista e in particolar modo a me. L'epigenetica è tutto ciò che un po' arriva dall'esterno, che non va a condizionare il nostro genoma, bensì va a modificare il fenotipo, non il genotipo. Cosa può condizionare il fenotipo? Possono condizionare le radiazioni, gli effetti elettromagnetici quindi, ma anche il cibo, i virus, i parassiti, i funghi, la quantità di minerali che assumiamo, di vitamine. Bene, tutto questo è ciò che noi possiamo evidenziare grazie al test epigenetico che ci mette a disposizione l'S-Drive, alla quale io ringrazio perché da quando lo utilizzo mi dà la possibilità di fare una personalizzazione dell'alimentazione e quindi essere molto più particolareggiata nella descrizione e nel consigliare il tipo di alimentazione. Io vi ringrazio e vi saluto alla prossima.